Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille! Oggi ci immergiamo in un mare di emozioni, mentre condividiamo l'addio commovente e solenne reso alla memoria di Alberto Rizzotto, l'amato autista che ha tragicamente perso la vita nel disastroso incidente sul cavalcavia di Mestre. In una chiesa gremita, dove il silenzio risuona con il peso del dolore, la comunità di tezze di Vazzola si è raccolta. Qui, in mezzo a lacrime e sussurri di preghiera, l'amore e il rispetto per Alberto brillano luminosi come fari di solidarietà. Un potente simbolo del suo dedicato servizio, un autobus della Martinibus Venisch, sostava in silenziosa veglia, un tributo al suo lavoro quotidiano, trasportando vite con cura ed edizione. Ogni viso racconta una storia, una saga di ricordi dolci, momenti condivisi e un futuro che, tragicamente, non sarà mai realizzato. Le parole del parroco risuonano nella chiesa, un eulogio che risveglia i cuori e offre un qualche conforto nell'incomprensibilità della perdita. I compagni di Alberto condividono parole toccanti, un addio carico di affetto e nostalgia, sottolineando l'indissolubile legame che resterà per sempre vivo nei loro cuori. Mani che si uniscono in un ultimo, rispettoso applauso segnano la fine di questa cerimonia, lasciandoci con il ricordo di Alberto e il calore della comunità che si è riunita per onorare la sua vita. Grazie per unirti a noi in questo tributo. Manteniamo vivi nei nostri cuori il ricordo e l'amore per Alberto Rizzotto.